Ciao a tutti e ricetti! Io sono Mamma Nadia E io sono Giada del canale di Gioca con Giada Oggi cosa faremo Giada? Faremo la letterina Babbo Natale Esatto, voi l'avete già fatta? Noi ancora no, aspettavamo di farla proprio con voi La volete fare con noi? Per favore Scriveteci nei commenti voi cosa chiederete a Babbo Natale Perché noi siamo molto molto curiose Eh sì E ora vi faremo vedere cosa Giada desidererebbe per il Natale Andiamo Ragazzi, ecco qua la letterina Ecco, abbiamo pronta la letterina da scrivere a Babbo Natale Dove la devo scrivere? Allora, qui c'è scritto Caro Babbo Natale, mi chiamo... come ti chiami? Giada Qua lo scrivo Esatto, sì Abito a Milano Perché noi siamo della provincia di Milano E allora ci vuole la M Abito a Milano Ti scrivo per dirti che mi piacerebbe tanto ricevere come dono di Natale Puntini puntini E qua bisogna scrivere tutta la lista delle cose che ti piacerebbe ricevere per Natale Dai, iniziamo a elencarle Quali cose vorresti ricevere? Ma soprattutto quest'anno Giada, dimmi ai miei amicetti Sei stata buona? Sì 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 Allora, per prima cosa il libro dei d'insieme Ragazzi abbiamo fatto il libro dei d'insieme Ok, il libro dei d'insieme l'abbiamo stabilito Poi cosa vorresti ricevere come dono? Avevamo detto che ti sarebbe piaciuto avere un bel tablet, giusto? T Un tablet con la T E T finale Tablet Ok Poi cosa ti piacerebbe ricevere ancora? Ti piacerebbe un giocattolo? Sì Quale giocattolo vorresti? Hai visto qualche video con qualche giocattolo che ti poteva piacere? Sì Ok ragazzi Avevamo stoppato un attimo il video Perché Giada era molto indecisa Quindi abbiamo fatto un giro sul sito di Giochi Preziosi E Giada gli è venuta in mente che gli è piaciuto molto Il Magix Mixes Quindi sicuramente questo è una delle cose che le piacerebbe ricevere Dove lo scrivo? Qua? Scriviamola Scriviamola Qua? Sì, fai un puntino E scrivi il Magix Mixes Ragazzi Adesso ti ho sul sito di me E io cosa mi piace di me contro te Ora andiamo a vedere che cosa invece la Giochi Preziosi fa Dei me contro te Guardate qua Siamo sul loro sito e vediamo insieme quali giochi ci sono Accessori Bambole Giochi musicali E peluche E ora forse si vede un pochino di più Che stiamo guardando Giochi Preziosi me contro te Allora Giada c'è qualcosa che ti piacerebbe? E a voi piacciono i miei contro te? Chi preferite i di insieme o i miei contro te? Scrivetecelo giù nei commenti Ok Allora vuole il microfono con l'asta dei miei contro te Lo scrivo io perchè questo è lunghissimo Guarda che bella vince Ce ne vanno la vince Ragazzi non ho visito ancora Ok io direi Eccola Ma io voglio scrivere qualcosa altro Cosa ti piacerebbe? Allora vorresti una nuova parure di trucchi per bambini? Sì anche smalti Ok smalti e trucchi per bambini Allora scriviamo Infine Ci piacerebbe una parure Per Bambini Ok Dopodiché la letterina dice Ti ringrazio E non ti stancare troppo alla vigilia Con affetto Giada Scrivo io? Nadia Scusa Scrivi tu Giada E Mamma Nadia Vuoi dire qualcosa Papo Natale? Papo Natale grazie Grazie di tutto se ci porterai dei doni Ma noi ti vorremmo bene lo stesso Anche se non ci riporti Ma ti volevamo ricordare che noi Abbiamo il cammino E quindi sarei comodissimo entrare In più ti faremo trovare una sorpresina golosa Ma secondo voi amicetti Babbo Natale Ci risponderà alla lettera? Seguiteci Seguiteci Non perdete i prossimi video E lo scoprirete con noi Intanto noi vi salutiamo Mettete un bel like Iscrivetevi al canale E un super Mua Bacione Ciao Buon Natale Buon Natale Ragazzi stiamo ancora riprendendo Non lo so perché Iscrivetevi al canale Iscrivetevi al canale E ora lo mettiamo dove? Del cammino Del cammino E basta Paggiela sul cammino Se la passerà a prendere Mettila qui Speriamo che i gatti non se la mangino Sto paura Allora mettiamola dentro al cammino Così tanto lui entra Che dici? La mettiamo qui nel cammino In attesa Che Babbo Natale Se la porti via Oh oh Ok Va bene va bene Ma che dici? Ma se viene a prendersi la letterina Non gli lasciamo qualche biscottino Mannaggia ma ci sono i gatti Che se li mangiano i biscottini Ma se li chiudiamo qua dentro Hai ragione Dobbiamo chiudervi lì dentro Prepariamogli qualcosa Amicetti Amicetti abbiamo preparato Adesso andiamo Una merendina Con della tuccia Per Babbo Natale Perché non è goloso Allora non è goloso Ma oltretutto Già da brutto Ci teneva tanto a fargli un regalino Perché lui per Natale Si stanca molto Vero? Per venire da tutti voi bambini Quindi metteremo nel cammino Oltre alla letterina Questo fantastico Perché se no i gatti Se li mangiano Con il gattino Quindi già del gattino Mettilo tu Ok Ecco fatto E ci vediamo Al prossimo Veggia Sei emozionata eh? Sì Che domani Domani però riprendiamo Eppure Dobbiamo aprire il calendario dell'avvento A domani Col calendario dell'avvento Ciao Eppure con quello Ciao 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 Buongiorno Ciao Com'è il seguito di mattiniera stamattina? Volevo capire Io voglio vedere Se ha preso la letterina Andiamo a vedere Se il cardo Natale Per caso Non può prendersi la sua letterina Oh yeah Vediamo Se è passato qualcuno Dal chiamino Si Intravede? Oh Dai apri apri Prendi Che cosa c'è? Ti ha scritto questo aggino Oh 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 Grazie piccola Giada Babbo Natale Ma è passato lui Che bello E poi Ha mangiato? Sì sì Dai tira fuori tutto Allora che Doviamo lavarli E si è bevuto e mangiato Eppure Ha preso Un regalino Che ci ha proprio fatto Bene Operazione Babbo Natale Riuscita Ha bevuto il latte E ha bevuto i biscotti E Giada Gli ha fatto anche un regalino E si è Portato via tutto Bene Dai Tutto nel lavandino Ciao amicetti Ciao Lascia un like E iscriviti al canale E iscriviti al canale